Ramana Maharshi e la via della conoscenza, biografia del saggio di Arunachala. Capitolo 9. L'Advaita. Sri Bhagavan non era un filosofo e non vi fu assolutamente alcuno sviluppo nel suo insegnamento. I principi dottrinali esposti nei suoi primi scritti, la ricerca del sé e chi sono io, non sono differenti da quelli che dava oralmente negli ultimi anni. Quando a 16 anni realizzò la sua identità con l'assoluto, con quello che è il puro essere, che sta alla base di tutto ciò che esiste, fu una conoscenza intuitiva, senza schemi, le cui implicazioni filosofiche furono riconosciute solo più tardi. Non sapevo ancora che vi era un'essenza o realtà impersonale alla base di tutto e che Dio e Dio siamo identici ad essa. In seguito, a Thiruvanamalai, ascoltando la ribugita ed altri testi sacri, appresi tutto questo e scoprì che essi analizzavano e denominavano ciò che io avevo percepito intuitivamente, senza analisi o nomi. Non si trattava di opinioni, ma di verità realizzata, il che vuol dire che egli non fu convinto da ciò che lesse, ma ne riconobbe semplicemente la conformità a quello che già sapeva intuitivamente. Dentro l'induismo ritroviamo tutti i tipi e i livelli di dottrina, tutti legittimi e corrispondenti ai diversi modi di approccio necessari a persone di vario temperamento e sviluppo. Vi è l'approccio attraverso l'amore e l'adorazione di un Dio personale, come nelle religioni occidentali o semitiche. Vi è anche l'approccio attraverso il servizio, vedendo Dio manifestato in tutte le sue creature e adorandolo servendo queste ultime. Tuttavia, la realizzazione del puro essere, come il proprio sé e il sé dell'universo e di tutti gli esseri, è la verità finale e suprema, che trascende tutti gli altri livelli, senza negarne la veridice dell'Advaita. Questa è la dottrina dell'Advaita, non dualità, insegnata dagli antichi Rishi e soprattutto da Shankaracharya. È quella più semplice e nello stesso tempo più profonda, essendo la verità ultima al di là di tutte le complessità cosmologiche. Non dualità significa che soltanto l'assoluto è. L'intero universo esiste in seno all'assoluto, non avendo una realtà propria, ma semplicemente manifestando l'assoluto, che però rimane eternamente immutato e non manifesto. Come le persone e gli eventi del sogno esistono soltanto nella coscienza dell'uomo e non hanno una realtà separata da lui, pur non aggiungendogli nulla con la loro presenza e senza nulla toglierli con la loro scomparsa. Ciò significa che l'assoluto è il sé del cosmo e di ogni essere. Cercando dunque il proprio sé, mediante la costante ricerca Chi sono io? È possibile per l'uomo realizzare la propria identità con l'essere universale. Sri Bhagavan insegnava la forma più pura di Advaita. Alcune potrebbero temere che la dottrina dell'unico sé li privi di un dio personale da poter pregare, ma non bisogna temere ciò, perché fino a quando rimane la realtà dell'ego che prega, vi sarà pure la realtà del Dio al quale rivolgere le preghiere. Finché un uomo accetta la realtà del proprio ego, per lui saranno reali anche il mondo esterno e Dio sopra di esso. Questo è il livello di una religione dualistica e di un dio personale. È verità, ma non è la verità ultima. Tutte le religioni predicano le tre cose fondamentali. L'individuo, Dio e il mondo. Solo fino a quando permane l'ego si dice l'uno si manifesta come i tre, oppure i tre sono realmente tre. Lo Stato Supremo consiste nell'essere unito a sé con l'ego estinto. 40 versi sull'esistenza verso 2 Alcune persone non accettano la concezione di un mondo irreale, pur ammettendo la realtà dello spirito, ma questo avviene perché non hanno capito in che senso sia irreale. Sri Bhagavan lo spiegò spesso e dove lo ha fatto in maniera più concisa fu nella seguente affermazione registrata da S.S. Cohen. Shankaracharya è stato criticato per la sua filosofia di Maya, illusione, senza comprenderne il significato. Egli fece tre affermazioni, che Brahman è reale, che l'universo è irreale, che Brahman è l'universo. Non si fermò alla seconda. La terza affermazione spiega le prime due e significa che quando l'universo è percepito separatamente da Brahman, quella percezione è falsa e illusoria. Ciò vuol dire che i fenomeni sono reali quando vengono sperimentati come il sé e sono illusori quando vengono visti separati dal sé. L'insegnamento di Sri Bhagavan era molto, molto pratico. Egli esponeva la teoria solo per rispondere ai bisogni specifici e alle domande dei devoti e quando serviva come base necessaria per la pratica. Quando gli ricordarono nel Vangelo del Maharshi che Buddha si era rifiutato di rispondere a domande su Dio egli rispose con approvazione. Infatti Buddha era più interessato a dirigere i ricercatori alla realizzazione della beatitudine qui e ora piuttosto che a fare discussioni accademiche su Dio e cose del genere. Allo stesso modo anche lui rifiutava spesso di soddisfare la curiosità volgendo invece l'attenzione dell'interlocutore alla necessità di fare Sadhana o lo sforzo. Interrogato circa lo stato dell'uomo dopo la morte rispondeva Perché volete sapere che cosa sarete dopo la morte? Prima di sapere quel che siete adesso scoprite prima che cosa siete ora un uomo è qui ora e sempre il semperituro che sta alla base di questa e di ogni altra vita ma non è sufficiente che questo ci sia detto o che ci crediamo è necessario sforzarsi di realizzarlo. Similmente se gli chiedevano di Dio rispondeva Perché volete sapere di Dio prima di conoscere voi stesso? Scoprite prima che cosa siete. Il procedimento per realizzare la ricerca viene descritto in un capitolo successivo. Siccome il prossimo capitolo parla già dell'istruzione di Sri Bhagavan ai devoti facciamo qui un breve accenno al suo insegnamento. Che il suo insegnamento non fosse filosofia nel senso abituale del termine si può capire dal fatto che come si vedrà dalle sue risposte a Siva Prakasam Pillai nel prossimo capitolo egli non istruiva i suoi devoti a riflettere sui problemi ma ad eliminare il pensiero. Questo può dare l'idea che sia un processo per intontire ma come spiegò a Paul Branton nella conversazione citata nel secondo capitolo è vero il contrario. Un uomo è identico al sé che è puro essere pura coscienza pura beatitudine ma la mente crea l'illusione di una individualità separata. Nel sonno profondo la mente si calma e l'uomo diventa una cosa sola con il sé ma in maniera incosciente. Nel Samadhi egli diventa una cosa sola con il sé in maniera pienamente cosciente non nell'oscurità ma nella luce. Se sa quieta l'interferenza della mente la coscienza del sé può per grazia del guru destarsi nel cuore preparandoci alla beata identità che non è torpore o ignoranza ma radiosa conoscenza puro io sono. Molti abborriranno l'idea della distruzione della mente o che è lo stesso dell'individualità separata e la troveranno terrificante eppure è quanto ci succede ogni giorno nel sonno è lungi dall'aver paura di andare a dormire lo troviamo desiderabile e anche piacevole anche se nel sonno la mente si acquieta rimanendo solo in uno stato di ignoranza nel rapimento o nell'estasi invece la mente viene temporaneamente assorbita e calmata in una parziale esperienza della beatitudine che costituisce la sua vera natura le stesse parole usate indicano la trascendenza dell'individualità poiché etimologicamente rapimento vuol dire essere portato via ed estasi significa stare fuori di sé l'espressione lascia senza respiro in realtà significa lascia senza pensiero perché l'assorgente del pensiero e del respiro è la stessa come spiegava Sri Bhagavan quando parlava del controllo del respiro la verità è che l'individualità non viene perduta ma espansa all'infinito l'eliminazione dei pensieri serve per concentrarsi sulla più profonda consapevolezza che sta dietro e oltre il pensiero lungi dall'indebolire la mente la rafforza perché insegna la concentrazione Sri Bhagavan lo confermò molto spesso la mente debole e non controllata viene costantemente distratta da vani pensieri e assillata da inutili preoccupazioni una mente abbastanza forte da sapersi concentrare non importa su cosa può rivolgere la sua concentrazione alla eliminazione dei pensieri e a perseguire e a perseguire la ricerca del sé nello stesso tempo lo sforzo per eliminare i pensieri nella maniera prescritta dà forza e potere di concentrazione quando la ricerca è compiuta non si perdono le facoltà della mente Sri Bhagavan illustrò questo paragonando la mente dello gnani alla luna piena che sta in cielo a mezzogiorno è illuminata ma la sua luce non è necessaria alla grande radiosità del sole che la illumina ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita metti mi piace e iscriviti al canale Doeia per ascoltare altri contenuti simili ci vediamo al prossimo video Ciao